Roma minacce di un gruppo di Novax all'ex ministro Speranza. Un gruppo di contestatori Novax ha aggredito duramente l'ex ministro della salute Roberto Speranza che si trovava a Ostia per presentare il suo ultimo libro. L'ex ministro doveva presentare il libro alle 17 nella palestra in zona Idroscalo, ma all'ultimo momento l'evento è stato spostato nella sala del municipio, proprio per motivi di sicurezza. Già dopo pranzo infatti erano iniziate le contestazioni da parte di un gruppo di persone che gli hanno urlato assassino. E hanno poi protestato anche contro gli agenti che hanno protetto l'ex ministro fino alla sua auto. Sulla vicenda sono attualmente in corso accertamenti da parte dei poliziotti della Digos.